In Thailandia tornano lentamente alla normalità i 12 giovani calciatori e il loro allenatore salvati nelle grotte di Tam Luang. Gli inviati Giacomo Segantini e Stefano Bellardini. Grazie per aver salvato i nostri ragazzi, siete degli eroi, dice uno striscione lungo le strade di Maesai. Se i baby calciatori ora sono in ospedale, tra lenzuola pulite e infermiere premurose, lo devono al piccolo esercito di militari, soccorritori e volontari venuti da tutto il mondo. Oltre 2000 uomini, ma ce n'è uno che, a detta di tutti qui a Maesai, è stato assolutamente essenziale per la riuscita dell'operazione. È l'australiano Richard Harris, Harry per gli amici, un curriculum unico nel suo genere, medico anestesista e sommozzatore, 30 anni di esperienza nelle immersioni in grotta. Quando il team britannico lo ha chiamato, se ne stava tranquillo in vacanza, non ha esitato un solo istante. Pochi giorni dopo, eccolo là, nella cavità dove erano prigionieri, i 12 cinghialotti ed il loro allenatore. È stato lui a curarli e a stabilire chi far uscire prima, in base alle condizioni fisiche di ciascun ragazzino. Ogni giorno, Harris è stato il primo ad entrare e l'ultimo ad uscire, 13 vite salvate. E una fatale coincidenza, appena riemerso dalle grotte, Harris ha saputo che il padre era morto ad Adelaide, in Australia. Le condoglianze dei nevisil tailandesi sulla loro pagina Facebook, l'affetto di tutto il suo paese e non solo. Lui ha reagito come ci si aspetta da un eroe. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione tv, solo un messaggio scritto. Grazie a tutti. I presunti concorsi truccati...